ciao fragoline nuovo video questa volta ancora shopping però dal negozio dei cinesi e in più volevo farvi vedere due cose che ho acquistato da amazon già che ci sono così ve le faccio vedere già subito per cui prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina così non vi perdete neanche un solo video se volete un bel like se vi piace questo video e c'è anche il mio instagram sotto in tutti i video e anche qua nella schermata trovate praticamente il mio instagram scusate ma ok e se volete anche un commentino qua sotto se anche voi avete comprato o andate da jades moda e se ce l'avete anche voi praticamente iniziamo e vi faccio vedere cosa ho preso iniziamo dai cinesi che se non sbaglio è da tanto che non compro dai cinesi per cui vi faccio vedere cosa ho preso non sono tante cose perché ho preso quello che mi serviva per cui prendo lo scomprino così vi dico i prezzi allora diciamo che ho speso 11 80 per cui pochissimo allora ho preso questo che praticamente mi è serotto dove metto il cesto però diciamo mi ricordo come si chiama questo che non mi viene il nome ovviamente l'ho preso perché mi è serotto e dato che questi sono di plastica fanno cagare questo qua l'ho pagato un euro e 90 se non mi sbaglio ok e ho voluto prendere questo qua per cui ho preso questo ho preso il nastro questo qua per imballare i pacchi robe varie questo qua grande 50 per 30 non so se si vede 90 centesimi poi facciamo così perché sennò faccio un casino tutte le volte perché sennò faccio un casino col sacchetto e poi ho preso la colla per attaccare diciamo le cose che si rompono tipo legno il ferro ceramiche e robe varie questa qua artigilio vediamo se riesco a trovare questa un euro e 90 che se non sbaglio è di 25 ml che questa qua poi ho preso le calze un euro e 90 queste qua che adesso le apriamo insieme così vediamo come sono queste qui sono quelle praticamente corte che arrivano non diciamo oltre al ginocchio prima del ginocchio sono 20 denari e taglia unica due paia un euro e 90 per quella li apriamo insieme così vediamo come ne sono perché sono volevo vedere allora sono fatte così praticamente come le volevo sono due paia ve ne ne faccio vedere una sono così come le volevo io praticamente nere adesso credo che si vedono ok sono fatte così dato che l'ho visti che costavano poco allora ho detto boh li prendo li provo e vediamo poi ho preso sempre calze di un euro e 90 però queste sono praticamente quelle lunghe sempre 20 i denari però classico praticamente un colore carne anche questo un euro e 90 adesso ve le faccio vedere così poi butto questo questo qua è lxl perché io porto la lxl allora dai cinesi ovviamente le taglie sono più strette per cui devo sempre prendere una taglia molto superiore a quella che io praticamente comunque sono così fatte così li volevo anche bianche ma bianche non lo trovate per cui quando riuscirò prenderò bianche sul o su wish oppure su un altro sito online che faccio prima sono fatte così io di solito le uso quando metto la gonna però non sempre ogni tanto sono così sembrano un po piccole spero di no che mi fanno si allargano però sono fatte così e sono trasparenti come ovviamente li volevo io perché di solito io ad esempio quella con il bordino che adesso vi faccio vedere dove c'è le dita dei piedi praticamente ho il bordino qua dove copriva le dita dei piedi invece questa qua non le copre meno male perché a me mi piacciono fatte così e per fortuna le trovate non so quanto dureranno perché ovviamente quelli dei cinesi non è che sono comunque sono fatte così leggere anche queste qua se non sbaglio l'ho già detto 20 denari e niente sono fatte così usate per il telefono di casa comunque poi vi faccio vedere le ultime due cose che praticamente sono per halloween infatti non c'erano tante cose di halloween io sto cercando di decorare almeno un pezzettino di di camera per halloween perché io ogni anno faccio sembrare decorazione di halloween e ho preso questa striscetta con scritto halloween o happy halloween mi sembra no happy halloween che costava un euro e 70 fatta così mi piaceva e ho voluto prenderla fatemi sapere se volete un video dove faccio la decorazione dell'angoletto della mia camera così almeno vi faccio vedere come come l'addobbo eccetera come come decorazioni fatemi sapere se mi interessa se ovviamente mi interessa faccio il video se no niente faccio la decorazione poi vi farò vedere in un blog come ho decorato diciamo come voglio io poi invece l'ultima cosa è questa zucchetta piccolina che è bellissima fatta così gialla e arancione dentro c'è una lucina credo che si vede dove ovviamente qua dobbiamo staccarlo adesso proviamo insieme se funziona perché c'è praticamente l'etichetta dove blocca il adesso ci ho messo troppo colla vabbè praticamente così a parte questo che lo devo tirare via qua si stacca sta levetta che era praticamente per la luce la accendiamo qua sotto ok è un po dura ok è praticamente così non so quanto dureranno le pile però troppo carina di sera è bellissima io quest'anno ho deciso di non comprare la zucca quella vera per decorare perché ovviamente costa sui 10 euro e di sicuro hanno aumentato ancora i prezzi per cui ho deciso di comprare queste tipo lucine queste decorazioni per metterle sul sul tavolino senza comprare quella vera io di solito ogni anno compro quella vera perché a me piace alone piace decorare e allora giustamente faccio così comunque niente questa se non mi sbaglio l'ho pagata questa qua l'ho pagata 1 euro e 50 per cui neanche tanto è carina perché si illumina e di sera di sicuro ancora più bello l'unico difetto che è un po duro per accendere e spegnere però è molto carino e queste praticamente sono le cose che ho preso volevo prendere altre cose di halloween più solo che non mi piacevano e ho trovato solo quelle e niente comunque niente fatemi sapere se volete il video della decorazione così almeno prima di halloween la faccio se no ripeto la faccio da sola e poi ve lo farò vedere in un vlog non lo so ditemi voi niente il totale ve l'ho già detto 11,80 neanche tanto non era scontato niente tranne forse le calze se non sbaglio forse non mi ricordo perché qua sconti ovviamente non me li mettono però credo che una cosa era scontato e basta invece le altre cose normali prezzi normali passiamo all'acquisto di amazon che vi faccio vedere allora ho preso praticamente in queste bustine allora adesso il prezzo non me lo ricordo bene comunque il prezzo ve lo metto di fianco qua cosemeno non lo sapete ho preso il fondotinta ne ho presi tre di questi perché ne vado pazza di questo fondotinta diciamo che è un fondotinta che cambia colore e idrata la pelle per cui talmente mi sono trovata bene che ho voluto comprarlo di nuovo il fondotinta è bianco questo è di 30 ml di questa marca lo trovate su amazon allora queste due le ho pagate se non sbaglio 11 o 12 euro non mi ricordo però vi metto il prezzo poi sempre ovviamente quelli però col pennello questo qui col pennello 8 euro se non mi sbaglio ma vedi che hanno tutti i prezzi ma vabbè l'ho presa col pennello sempre nella bustina e ne ho presi tre fatti così il pennello è questo che è molto carino fatto così rosa ed è molto carino molto morbido per applicare il fondotinta fatto così e dato che ripeto ne vado pazza di questo fondotinta perché mi piace e poi perché così a me allora diciamo che non copre bene come fondotinta però è buono per cui io l'ho preso opposta infatti ne ho presi tre con il pennellino poi l'ultima cosa ho preso questo correttore cancella età di maybelline se non mi sbaglio questo l'ho pagato 7 8 euro sempre vi metto vi lascio per il prezzo lo stesso il colore è lo 01 light che non si vede ovviamente proviamo ad aprirlo insieme così vediamo il colore se va bene le recensioni dicevano che era ottimo per cui ho voluto provarlo diciamo che come prezzo è un po' eccessivo perché 8 euro 7 euro un po' tanto proviamo a vedere se forse lo devo aprire ah ok dovevi girarlo girarlo comunque è fatto così e credo che ho azzeccato il colore ovviamente non lo consumo tanto perché sennò comunque è fatto così spero che si vede adesso spero che non si ok comunque fatto così il colore forse l'ho azzeccato perché è questo non è male vedo vedo se la coprenza è buona se mi trovo bene e poi vi farò sapere l'unica cosa che secondo me il prezzo è un po' tanto perché 8 euro questa boccettina piccolina dato che io lo metto tutti i giorni il correttore per le occhiaie mi finirà subito comunque questo qua e niente queste sono state gli acquisti sia di amazon che su dai cinesi questo ci vediamo al prossimo video ovviamente vi ricordo sempre di lasciarmi un commentino qua sotto e un bel like e se volete iscrivetevi al canale io vi aspetto sempre sul mio canale ci vediamo al prossimo video ciao ciao